la casa delle farfalle a monte grotto terme vi posso garantire con la visita guidata molto più interessante che senza siamo qui ormai la quinta volta ma è la prima volta che abbiamo preso la guida che ci spiega e sono molto contenta di questa decisione in monte grotto terme la casa delle farfalle butterfly art chissà cosa stanno combinando questi due ecco